Hanno sfilato in maniera pacifica e silenziosa i ragazzi degli istituti superiori di Ladispoli e Cerveteri. Lo hanno fatto anche a Civitavecchia, dalla stazione ferroviaria fino al parcheggio del Tribunale. Ad aprire il corteo lo striscione con la foto di Marco in bella vista e la scritta «Giustizia e verità per Marco Vannini». Giustizia e verità che due città intere, quella di Ladispoli e Cerveteri, chiedono da tempo. Quella stessa giustizia e verità che chiedono i genitori dello stesso Marco. Tantissimi ragazzi delle scuole Pertini e di Vittorio di Ladispoli e Mattei di Cerveteri che questa mattina hanno presidiato il piazzale del Tribunale di Civitavecchia dove sono rimasti fino alle 13.30, ora di inizio del processo. Nel frattempo i ragazzi hanno avuto la possibilità di apporre la loro firma a un grande striscione bianco che sarà donato ai genitori di Marco. Le iniziative in questa importante giornata, hanno spiegato, sono iniziate oggi alle 9 con la deposizione di una rosa bianca sulla tomba di Marco. Pomeriggio alle 15, invece, è previsto un nuovo corteo. Si partirà questa volta dalla stazione ferroviaria di Ladispoli e si arriverà a piazza Rossellini. Sarà un corteo non invasivo, hanno detto, cammineremo sui marciapiedi così da non bloccare il traffico. A piazza Rossellini, intorno alle 16, saranno poi levati al cielo dei palloncini bianchi in ricordo di Marco.